All'altro la tua esperienza, secondo te la Serie B continua ad essere un buon serbatoio per il massimo campionato? Secondo me sta continuando ad esserlo perché l'anno scorso sono venuti fuori alcuni giovani e quest'anno la crescita si è vista, ce ne sono molti di più e bisogna solo avere la capacità di individuare su chi puntare, poi Prandelli ha fatto un'ottima cosa facendo una giornata dedicata a giovani interessanti della Lega DB e quindi ha messo in maggior risalto anche questi giocatori che stanno facendo bene, quindi io penso che sì, bisogna stare attenti alla qualità del campionato, però con questi giovani penso che alla fine abbia avuto un suo perché. Parlando di nazionale, come la vedi l'avventura brasiliana nella squadra di Prandelli? Io mi appassiono in maniera al 100% l'estate, quel periodo di vacanza mi attacco alla televisione anch'io perché la nazionale è una nazionale, per noi soprattutto va seguita sempre e comunque quindi io tifo sempre per loro e penso che possono fare un gran torneo, quindi hanno le possibilità non sarà facile perché ci sono squadre toste, il nostro girone sembra ma non è così facile, però possiamo far bene. Tu hai ritirato un premio intitolato a Pier Mario Morosini, questo è un altro modo per ricordare la figura del giocatore scomparso, insomma ti rende orgoglioso? Sì, è giusto che venga ricordato anche se nella disgrazia ma per tenere onore al ragazzo che era e a quello che comunque è riuscito a muovere in questi anni, fino in fondo non ha mollato, è stato comunque un simbolo del nostro calcio, quindi speriamo che tutto questo serva a migliorare sempre il futuro di ognuno di noi.